Musica Grandi novità per gli spettatori di Sky Ad aprile andrà in onda la serie evento prodotta da Sky Cinema Questo primo ed innovativo esperimento vanta la collaborazione di Gabriele Salvatores che nel 2005 aveva tratto Quo Vadis Baby dall'omonimo romanzo di Grazia Verasani Per sviluppare le storie della detective Giorgia Cantini in sei film per la tv Salvatores si è trovato a svolgere un ruolo per lui inedito affidando la regia al collega Guido Chiesa Ma cosa fa un direttore artistico in queste situazioni? Buona! È una buona domanda anche perché è la prima volta lo sto scoprendo un pochino anch'io Credo che sia una parola un po' inventata ma sostanzialmente il libro romanzo di Grazia Verasani è diventato un film che io ho fatto e il testimone viene passato a Guido per questa serie quindi sostanzialmente quello che sto cercando di fare è di da una parte proteggere prima di tutto Guido dall'altra parte proteggere un pochino anche il personaggio di Giorgia Cantini e le storie in generale Una delle scommesse ma anche uno dei punti su cui con Sky e con la Colorado ci siamo trovati subito d'accordo è stato che dobbiamo farlo senza far scadere la qualità provare a fare una televisione che non sia sinonimo di una scarsa qualità della recitazione una scarsa qualità della fotografia, della messa in scena Dalla fotografia nella serie televisiva è un po' una lotteria perché purtroppo nella serie televisiva la fotografia dipende molto dalla committenza Quando incomincia a salire tu vieni tenendo un po' picchiato e poi alzando, alzando, alzando In questo caso devo dire che Sky invece ha un altro modo di vedere le cose molto più moderno, molto più giocato sullo stile, molto più giocato su... anche se sembra una brutta parola, ma la moda del momento, le tendenze attuali In realtà il cinema ha bisogno di cambiare un pochino il proprio linguaggio Lo ha già fatto in parte riferendosi alla pubblicità, ai fumetti lo fa all'arte contemporanea, alla videoarte, cerca dei linguaggi nuovi Questa è un confronto di due fratelli, cioè di due... Godard lo diceva già tanto tempo fa Non c'è nessuna differenza tra il cinema e televisione, è uno falso mito Fa del cinema, vedi? Prima classe, vedi? Dobbiamo raccontare delle storie fatte bene, appunto Indubbiamente il fatto di avere a che fare con uno schermo così piccolo e con dei temi così ridotti ci obbliga, secondo me, per cercare di fare buona televisione ad utilizzare un linguaggio diverso Da regista so cosa vuol dire la libertà creativa Credo che un produttore, un direttore artistico, ti chiamano come vuoi Comunque qualcuno che lavora accanto a un regista debba essere una persona che stimola ma soprattutto se una volta chiarite le cose in qualche modo garantisce la libertà di chi sta realizzando una cosa, è quello che ho cercato di fare Mi ha lasciato una totale libertà La prima di tutto è quella di dirmi non rifare il mio film Non voglio rivedere il mio film, l'ho già fatto, voglio vedere una cosa diversa Credo che sia una delle cose belle della vita questa Lasciare qualcosa che cresce, non so, indipendentemente da te